dello starter, d'altronde ormai sono tutto pronto, luci che lampeggiano, ultima occhiata all'andamento del gioco, a gioco ancora aperto, 1 e 33 Sonnyside, 4 e 48 Saita Jet, numeri 6 e 1, ma tutto è davvero pronto, Cavalli in movimento va in partenza la seconda corsa di Palermo. Seconda corsa di Palermo, indigeni di 4 anni guidati dai gentlemen, chiari favori al gioco per il numero 6 Sonnyside, sbaglia in fase di allineamento serizzo GV, si va dunque allo stacco che vede l'ottima partenza di Samara Jet, all'esterno parte bene anche Sinfonia Desi, prova a rischiare forse più di quello che dovrebbe Tano Caravello con Sonnyside per linee esterne, la manovra abbastanza rischiosa però gli riesce l'anticipo su Sinfonia Desi e così può presentarsi sulla compagna di colori Samara Jet, ovviamente Freeway senza alcuna discussione. Resta dunque scoperta Sinfonia Desi che ha accolto come detto una buona partenza, si viaggia abbastanza tranquillamente adesso con Sonnyside, Battistrada, Sinfonia Desi per linee esterne, Samara Jet seconda ha steccato precedendo Saetta Jet, dietro la quale c'è Sissi Holtz, mentre per linee esterne Strolaga Jet ha preferito sistemarsi in seconda pariglia esterna nella scia dunque di Sinfonia Desi. La situazione sembra abbastanza ben definita e anche abbastanza cristallizzata, probabilmente così si andrà per ancora diversi centinaia di metri con Sonnyside il favorito al comando, quota in chiusura di 1,37 a seguire due parie, quella formata da Samara Jet e da Sinfonia Desi che adesso avanza leggermente, quella poi formata da Saetta Jet e da Strolaga Jet in coda a questo gruppetto Sissi Holtz, mentre ti sta ricongiungendo Serizzo o GV che però è già stato squalificato. I cavalli stanno percorrendo la penultima curva, mancano poco meno di 800 metri al traguardo con Sonnyside, Battistrada, Sinfonia Desi sempre ai suoi fianchi, poi a seguire Samara Jet e Strolaga Jet, mentre prova a muovere Sissi Holtz, una Sissi Holtz davvero molto molto reattiva e beh vediamo che Sonnyside prova difficoltà a reagire, si è forse un po' addormentato in mano a Gaetano Caravello che adesso comunque lo sveglia, fa capire al Sauro che la corsa non è finita e che bisogna ancora spendere qualche energia, Sonnyside sembra avere risposto obbedisco, Sissi Holtz davvero insolita la sua prestazione all'esterno che ha scavalcato Sinfonia Desi e prova a minacciare Sonnyside che comunque ancora reagisce bene, prova a inserirsi anche Strolaga Jet, deve stare attento, deve stare attento Gaetano Caravello ma il traguardo a dire che è lui il vincitore, vince dunque Sonnyside nei confronti di Strolaga Jet e Saettaget che era un po' quello che ci si attendeva, Sonnyside era il favorito, Saettaget e Strolaga Jet erano quelle meglio situate, ha vinto dunque Sonnyside, Gaetano Caravello in sediolo, i colori del signor Giuseppe Caravello, il training di Antonino Porzio, quota di 1 e 37, una vittoria con qualche patema di tanto in tanto ma forse più un'impressione visiva che è una realtà preoccupante, alla fine non ci sono stati problemi per Sonnyside che ha preceduto una corta Strolaga Jet molto ben guidata da Gianluca Diventi e l'altra tendista Saettaget, in numeri dunque 621 l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della seconda corsa di Palermo.